E questa mattina andiamo almeno idealmente, ma lo facciamo attraverso un collegamento con telefonico, videocollegamento, andiamo nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa per un importante incontro e anniversario che si celebrerà domani. Siamo collegati con Don Raffaele Aprile che svolge proprio il suo ministero sacerdotale nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Buongiorno Padre Raffaele e buongiorno anche al suo ospite che vorrei presentasse lei stesso. Buongiorno, un caro saluto a tutti voi e ai telespettatori che sono collegati in questo momento su Padre Pio TV. Vi giunga la benedizione del Signore. Sì, accanto a me c'è Enzo Iannuso che è uno dei quattro figli della coppia Angelo e Antonina. Coppia che aveva il quadretto della Madonna delle Lacrime posto come capezzale del loro letto matrimoniale. Questo quadretto è quello che ha le mie spalle, il quadro che ha versato Lacrime Umane. Ecco, benissimo, grazie e benvenuto anche ad Enzo. Allora, io vorrei chiedere a Don Raffaele di raccontarci brevemente, se possibile, la storia del quadro della Madonna delle Lacrime a Siracusa, che poi è anche legata a Padre Pio in qualche modo. Sì, quello che accadde nel 1953 a Siracusa, dal 29 agosto al primo settembre, praticamente da un'epige mariana, quella dietro alle mie spalle, in gesso smaltato, a metà busto, montato di un supporto di vetro palino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. E questo quadretto, come ho detto prima, era un regalo di nozze, celebrato il 21 marzo di quell'anno. Ed era posto come capezzale del loro letto matrimoniale, nella casa di questa giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto. Il quadretto verso Lacrime, risultate in seguito di tipo umano. E da questo evento, chiaramente quello che è avvenuto a Siracusa è una mariofania, una manifestazione mariana. Quindi, da questo evento scaturirono numerose guarigioni, ritenute appunto straordinarie dalla commissione medica, appositamente istituita all'epoca. Pensate che furono circa 300 solo fino a metà novembre del 1953. Guarigioni fisiche da paralisi e tumori, ma anche guarigioni spirituali, come le conversioni, ma anche vocazioni alla vita consacrata. E una di queste appunto è la mia. Io dico sempre che sono prete grazie alla Madonna delle lacrime. Cioè, dico che la mia è una chiamata mariana, perché è avvenuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Do Raffaele, vorrei chiedere al signor Enzo Iannuso, appunto figlio della coppia, che abbiamo visto anche in questa immagine storica, con tra le mani il quadro miracoloso della Madonna delle lacrime di Siracusa. Qual è il suo rapporto con questa storia, con questa importante devozione, con quello che è accaduto all'interno della sua famiglia, signor Enzo? Ovviamente sono esperienze che sono fuori dall'evento, perché io ero nato due anni dopo. Quello che posso dire è l'atmosfera che ho respirato in famiglia. È stato quello di un ambiente sereno, però è rimasto a terra. Cioè nel senso che la vita dei miei è stata ovviamente molto modificata dall'evento. Però loro hanno conservato la loro primaria chiamata, quella di essere marito, moglie, genitore e famiglia. E si sono mantenuti leggermente da parte, un po' con discrezione, lasciando spazio solo al messaggio che Maria voleva dare con il suo pianto. Quindi non si sono presi protagonisti, ma si sono messi da parte, consapevoli di essere trattati degli strumenti. E questo è quello che hanno trasmesso a noi figli. Cioè consapevoli di aver ricevuto un grandissimo dono, ma anche altrettanto consapevoli di essere degli strumenti. E essere stati degli strumenti e quindi con molta discrezione farci da parte e per quanto chiamati poter dare la testimonianza che questo è stato un grande dono sia per la nostra famiglia ma per tutta la comunità cristiana. Molto bello quello che ha detto signor Enzo. Quindi un dono che è stato fatto alla sua famiglia, ma soprattutto anche l'umiltà dei suoi genitori, della sua famiglia, che sono, come ha detto bene, sono stati degli strumenti. Quindi nessun tipo di spettacolarizzazione a questo proposito, ma solamente tanta devozione e tanta fede. Don Raffaele, domani è un appuntamento importante. Che cosa, un anniversario importante, che cosa ricordate a Siracusa? Ma praticamente ogni anno, nella terza domenica di ottobre, nel nostro santuario giungono tutti i gruppi di Padre Pio e un evento regionale. E scelgono questo luogo proprio anche per il legame che c'è tra Padre Pio e la Madonna delle Lacrime. Perché, vedi, nel nostro santuario si conserva una teca del Santo e di Pietralcina. Nella teca, benedetta nel 2015, da Monsignor Michele Castoro. E nella teca sono conservate alcune reliquie del Santo. Un pezzetto di panno donato dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, con il quale Padre Pio astergeva la piaga del costato. E poi un'immaginetta della Madonna delle Lacrime, datata a 10 luglio 1961, donata da Monsignor Castoro, dove c'è scritto che Maria non ritiri mai da te il suo sguardo materno. Parole di Padre Pio. E poi un fazzoletto dove sono ben visibili le tracce delle stimate. Poi c'è da dire anche che Padre Pio, ai numerosi siciliani, ma ai pellegrini, alle persone che giungevano da lui, diceva a loro questo. Andate a Siracusa, se la Madonna piange ha qualcosa di importante da dirci. Ecco, queste parole si erano rivolte ai pellegrini, ma in particolare ai siciliani, per far capire il dono dal cielo che avevano ricevuto, un dono importante, sì, che non è solo per la Sicilia, ma chiaramente per tutta la Chiesa e per tutto il mondo. Ma proprio perché la Madonna, come è la nostra mamma celeste, noi siamo i suoi figli e come tutte le mamme, ha sempre dei messaggi importanti da dirci per la nostra vita. Le sue lacrime magari possono dire ad ognuno di noi un invito alla conversione, a un cambiamento di stile di vita, a un modo di agire, di pensare diverso. Insomma, ha sempre qualcosa, ecco. Certo. Da dirci, non da... Da comunicarci. Lei, Don Raffaele, diceva in apertura di essere un sacerdote, ecco, Mariano, la sua vocazione è legata alla Madonna, in questo caso alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma in qualche modo ha anche un legame con Padre Pio? Sappiamo che la Sicilia è devotissima del Santo di Pietrelcina. Lei ha anche un legame in particolare con il Santo del Gargano? Esatto, sì. Il mio essere prete si lega non solo alla Madonna delle Lacrime, ma per me è stata importante anche la figura di Padre Pio, perché, vedi, negli anni trascorsi in seminario, più volte mi rivolse ai Santi, in modo particolare proprio a lui, a Padre Pio. E pensando a lui, mi tornavano in mente sempre, diciamo, queste frasi, chi prega poco si può paragonare a chi non prega. La preghiera è la migliore arma che abbiamo, è una chiave che apre il cuore di Dio. Chi non prega non ha bisogno del diavolo che se lo porti, va all'inferno con le sue stesse gambe. Ecco, queste frasi mi faceranno capire l'importanza della preghiera, perché, d'altronde, la preghiera nasce, no, dalla consulezza della nostra miseria e dalla ricchezza dell'amore di Dio, l'insalda la fede, l'affiatto all'amore, fornisce le ali alla speranza, riconosce Dio come unico Signore e Salvatore. La preghiera è l'unica medicina che guarisce dall'orgoglio. La preghiera, diciamo, è una fidarsi e fidarsi di Dio. È la catena d'amore che ci lega a pregare con insistenza. E questo Padre Pio lo sapeva benissimo e aveva anche sottolineato che la preghiera è un dovere che noi abbiamo da compiere nei confronti di Dio. Allora, grazie al suo esempio e alla sua vita, nei momenti difficili della mia vita, mi rivolgevo, come faccio ancora oggi, sia a lui che alla Madonna delle lacrime. Allora, Don Raffaele, grazie per queste belle parole, per questa testimonianza che ci ha regalato. Grazie al Signor Enzo Iannuso anche per la sua testimonianza e per le sue parole. Noi vi affidiamo tutti quanti i telespettatori di Padre Pio TV che in questo momento ci stanno ascoltando dalla Sicilia, ma non solo, da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi portateci con voi dinanzi al quadro della Madonna delle lacrime di Siracusa e portateci con voi anche domani in questo grande incontro dei gruppi di preghiera. Vogliamo, ecco, idealmente essere lì, siamo lì con voi. Quindi vi affidiamo tutte le nostre preghiere e le richieste che arrivano direttamente a Siracusa. Quindi grazie di cuore per la vostra presenza, anche per questa bella immagine che ci avete regalato, perché quella che ha le vostre spalle è il quadro della Madonna di Siracusa. Non c'è una copia, è proprio l'originale. E vi affidiamo alla Madonna delle lacrime. Grazie, grazie ancora. La prossima occasione vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, così per appunto ospitarvi direttamente nei nostri struti. Grazie ancora per essere stati con noi. Un caloso saluto ancora. Ciao, grazie. Allora, grazie ancora ai nostri ospiti. Noi abbiamo ancora qualche secondo da trascorrere insieme. Prima di un altro blocco che è stato realizzato da Giulia Morcavallo, parleremo di un'interessante figura, il Beato Giuseppe Allamano. Ne parleremo con il postulatore, padre Giacomo Mazzotti. Lo farà Giulia Morcavallo in questo contributo che ha preparato per noi. Poi, subito dopo, ritroveremo Nicola Morcavallo con il momento dell'approfondimento e altre notizie. Intanto vi ricordo il numero WhatsApp per continuare a inviarci i vostri scatti. 331 737 8033. Ecco, lo vediamo in sovraimpressione. Intanto, linea la regia, pubblicità e poi di nuovo insieme.